I procedimenti pendenti abbiamo visto che sono diminuiti nel settore civile e sono purtroppo aumentati nel settore penale in corte d'appello. Però se guardiamo il complesso dei tribunali del distretto sono diminuiti anche quelli penali, le pendenze, quindi significa che il sistema sta funzionando. Purtroppo in tutto il distretto ci sono due uffici in grande sofferenza che sono la corte d'appello di Napoli e il tribunale di Napoli Nord che non riescono a gestire la sopravvenienza enorme che arriva nel settore penale e quindi sono in sofferenza perché aumentano la pendenza. Sono gli unici di uffici che hanno questo problema in questo momento, che probabilmente hanno degli organici non adeguati, delle risorse non sufficienti a gestire, a fronteggiare per diverse ragioni la sopravvenienza. Un dato che si è registrato anche l'anno scorso. Sì, purtroppo io continuo a ripetere sempre le stesse cose, ma è chiaro che se il numero di magistrati e di personale amministrativo è inadeguato rispetto alla sopravvenienza. Se pensiamo che la corte d'appello di Napoli è diventata ormai un imbuto, a parte che è la più grande d'Italia, ma è diventata un imbuto perché dal giudice unico in poi, dal fatto che gli abbreviati sono aumentati moltissimo, quindi i processi che arrivano nel settore penale sono tantissimi, quindi è addirittura triplicata forse la sopravvenienza. Quest'anno per esempio sono arrivati altri 15.000 processi. È chiaro che l'organico che è stato fatto, che andava bene dieci anni fa o quindici anni fa, non va più bene adesso, quindi andrebbe rafforzato sia quello dei magistrati, ma soprattutto quello del personale amministrativo, che tra l'altro ha un'età sempre più avanzata e non viene sostituito adeguatamente. Ma è proprio un problema di piante organiche che sono insufficienti. E lo stesso vale per il Tribunale di Napoli Nord, che è forse ancora più grave, perché il Tribunale di Napoli è nato da poco. Quindi è nato già con una pianta organica che si è rivelata assolutamente insufficiente. Se consideriamo che il Tribunale ha competenza per la zona più alta densità criminale d'Italia, forse, che abbia delle risorse inadeguate, mi sembra piuttosto grave.